Oggi il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Oggi il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Oggi il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, cosa di lui saprà? Il Papa manderà, al Presidente una lettera, la Gingardinale andrà, cosa di lui saprà? Stati d'America Difficulta decisione E la città throughout the world I told you president today On S.N. Wednesday Adolescenti around the world Are fallen above So wreck as you pray And fight for peace this day And I feel leader of faith Difficult decision Will be spotted If they search for peace Shalai lai la 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 oria Shalai lai la Shalai lai lai la Shalai lai lai la